Dante Terzine from the world. Oggi è il poeta Masutu Zaman da Dacca a leggere Terzine in bengalese, che è la settima lingua parlata al mondo. Dante è stato anche tradotto dal grande poeta Tagore. Masutu Zaman è poeta, editore, critico letterario ed anche docente universitario. Buon ascolto. Dear friends, this is Masutu Zaman from Bangladesh. I'm really excited and feeling honored to be a part of this project. Dante is also my favorite poet. I have translated his photo sets from Purgatorio and canto number 27 into Bangla, which is my mother language. Now I'm reading my translation. meglio la... io mi faccio... io mi faccio... Dunno... è un... tipo, un participo... lo vincitato... io... io... ti faccio mi faccio... te faccio i... ti faccio... alla... io lo... sei... ti faccio... arii... mi faccio... Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info